ciao se hai deciso di partire ma non hai ancora comprato i biglietti fai attenzione a quello che ti dico perché i voli tra l'italia romagna e moldavia stanno aumentando giorno dopo giorno quindi se non hai ancora affatto i biglietti li devi fare il prima possibile tra l'altro tante persone si sono già vaccinate quindi con l'estate aumenteranno anche i turisti i prezzi dei voli stanno già salendo quindi se acquisti a giugno un volo per luglio potresti arrivare ad un prezzo di 400 euro per persona se hai intenzione di viaggiare in gruppo devi fare fretta perché giugno faremo soltanto un viaggio al mese tra l'altro giugno potrebbe essere l'ultimo mese dove potrai viaggiare in gruppo anche se sei disposto a spendere tanti soldi fai attenzione perché a giugno e luglio abbiamo già un 40 per cento di occupazione e quindi c'è il rischio che non potresti trovare un posto per le cure tra l'altro vi volevo ricordare che per entrare in moldavia non bisogna più fare il tampone e al rientro in italia dovete fare 10 giorni di quarantena piuttosto che 14 tutti quelli che volete viaggiare e non avete ancora visto come funziona un viaggio di gruppo potete scriverci su whatsapp l'ultimo viaggio di gruppo che l'abbiamo avuto è stato proprio il sabato scorso che abbiamo preso i pazienti da allenate siamo andati a parma e poi siamo arrivati tutti a chisina vi voglio dire che i nostri pazienti sono molto soddisfatti e i viaggi di gruppo vanno alla grande nei viaggi di gruppo possiamo aiutarci uno con l'altro e se magari un paziente ha un problema oppure incontriamo qualche problemi lì alla dogana ci aiutiamo e la cosa più bella la cosa più importante è che passiamo tutto questo tempo assieme quindi quello che volevo dire e fate fretta prenotate i vostri biglietti ora perché comunque per l'estate c'è anche il rischio che la clinica sia piena e voi non avrete posto per le cure io vi saluto da chisina vi aspetto numerosi qui e un abbraccio a tutti ciao 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 ciao